ciao a tutti buongiorno sono marco bardi benvenuti in questo nuovo video dedicato alle linee guida della pesca in apnea oggi voglio parlarvi di ambiente marino il pescatore in apnea non può trascurare la conoscenza dell'ambiente marino perché ci sono così tante informazioni per aiutarla a pescare meglio per aiutarla a conoscere meglio l'ambiente stesso per capire il comportamento dei pesci e infine anche per capire quelli che possono essere i pericoli derivanti dall'ambiente stesso prima di tutto è importante entrare in sintonia con l'ambiente marino perché questo ci permetterà di evolvere le nostre tecniche altrimenti le nostre tecniche resteranno sempre rudimentali e inefficaci il pesce non si comporta o non ragiona come noi possiamo immaginare da esseri umani il pesce è totalmente diverso ha dei comportamenti che sono molto differenti dai nostri per cui per essere davvero efficaci noi dobbiamo diventare come dei pesci ma per diventare come dei pesci dobbiamo anche imparare a capire i loro comportamenti e appunto come entrare in sintonia con l'ambiente marino una volta raggiunta questa integrazione le nostre possibilità aumenteranno in modo esponenziale e non avremo più bisogno di prestazioni estreme o di attrezzature estreme o di fantasie estreme per sperare di risolvere tutti i nostri problemi anzi al contrario sarà il momento in cui riusciremo a capire l'importanza della nostra abilità l'importanza della nostra conoscenza e questo sarà un grande salto di qualità per entrare in perfetta sintonia con l'ambiente marino dobbiamo impegnarci anche a rispettarlo ad esempio dedicare del tempo alla raccolta di rifiuti sui fondali è qualcosa che dona grande soddisfazione ed è un gesto di grande rispetto nei confronti dell'ambiente marino non conta quanta ne raccogliamo conta il principio di quanto ci impegniamo un'altra forma di rispetto è senz'altro la pesca selettiva e noi tra tutti i tipi di pescatori sicuramente siamo quelli che possiamo avere la capacità più alta di essere selettivi perché noi possiamo vedere e possiamo scegliere e questo non è possibile per tutti la pesca selettiva non è una questione di capacità la pesca selettiva è una questione di scelta e la può attuare sia il principiante che l'esperto sia il pescatore a livello industriale che il pescatore sportivo il giorno in cui tutti sceglieremo di attuare una pesca selettiva probabilmente arriverà il momento in cui potremo dire di avere davvero rispetto per il mare l'ambiente marino è per noi ostile e difficile ma al tempo stesso entusiasmante ci sono un'infinità di organismi fantastici da conoscere e anche in quelle giornate in cui non gira un pesce dedicare del tempo all'esplorazione alla conoscenza ravvicinata di questi organismi può diventare davvero fantastico inoltre noi pescatori in apnea siamo tra i pochi che possono avere un quadro della situazione ben preciso sui fondali perché ci immergiamo spesso perché abbiamo una particolare attenzione ai cambiamenti dell'ambiente e quindi i nostri occhi possono diventare gli occhi di tutti in poche parole noi potremmo diventare degli ottimi guardiani del mare infatti siamo sempre più apprezzati dalla ricerca scientifica che studia appunto i pesci fondali marini l'ambiente marino e così via proprio per le nostre capacità di poter vedere spesso e nel modo giusto i cambiamenti che avvengono purtroppo l'ambiente acquatico può essere anche pericoloso se non lo conosciamo bene per cui si possono verificare condizioni variabili ci sono cambiamenti nel nostro organismo ci sono pericoli inaspettati ecco perché dobbiamo essere pronti e dobbiamo essere consapevoli anche di quello che stiamo facendo e di cosa può succedere sott'acqua naturalmente ci sono più modi di approfondire queste conoscenze ad esempio ci sono dei manuali di pesca in apnea ci sono dei corsi specifici ci sono negozi e società sportive che fanno un'ottima formazione ognuno sceglierà quello che ritiene più adatto ma la cosa importante è non andare sott'acqua impreparati perché questo diventa il primo grande difetto soprattutto di chi inizia in conclusione se non conosci bene l'ambiente marino in cui ti immergi non potrai mai dire di essere un vero pescatore in apnea e non potrai mai fare il salto di qualità nel prossimo video parleremo dei principali pesci che incontriamo durante le nostre immersioni delle loro caratteristiche delle prede consentite delle prede vietate delle loro misure minime e così via tante informazioni relative appunto ai pesci se hai piacere di ricevere in automatico le notifiche dei nuovi video che usciranno devi cliccare in basso a destra di questo video sul pulsante rosso con scritto iscriviti al canale così riceverai in automatico tutti i nuovi aggiornamenti aiutami anche a divulgare queste linee guida a tutte le persone che conosci e a tutti coloro che potrebbero interessare bene ti ringrazio della collaborazione dell'attenzione e ci vediamo presto con il prossimo video ciao